Un filone aurifero di una certa importanza è stato scoperto in una località che non nomineremo per non farvi venire la smania di corrervi a tratti dal miraggio di una subita ricchezza. I fortunati scopritori lavorano già febbrilmente da mane a sera facendo assaggi del terreno e lavorando la roccia sia pure con mezzi rudimentali per liberare le preziose pepite. ... ... che è una cosa che non è vero che non è vero un'altra cosa che è vero un'altra cosa